oh che cosa un falso allarme ehi sentite ragazzi e ragazza falso allarme non c'è nessun incendio ripeto non c'è nessun incendio era un falso allarme elvis rientriamo ecco l'incendio devo immediatamente avvertire se pronto pronto sam sono io ho localizzato l'incendio fate presto si tom stiamo arrivando tu aggiorna immediatamente il capitano sti oh no mamma c'è un incendio dico davvero stavolta avvertite salmi il pompiere subito norman price devo forse ripeterti che queste tue storielle non sono divertenti no no non sono storie è vero venite a vedere oh santo cielo cosa ho fatto non avrei mai dovuto lasciare incustodito quel fuoco tom thomas chiama sam sono appena decollato dove siete siamo sul posto tom benny elvis portate gli idranti l'incendio è troppo lontano perché si possa spegnerlo con gli idranti dovremmo usare le pale e gli estintori non preoccuparti ho già riempito il serbatoio dell'acqua lo spegnerò mi piacciono questi ventagli oh mi dispiace sam non avrei mai dovuto lasciare il fuoco acceso senza controllo eppure io ero un boy scout lo so trevor ma anche ai boy scout capitano gli incidenti ciao sam sarà sicuro lasciarlo dormire da solo là fuori si dilis sta tranquilla c'è stato un incidente sulla spiaggia ci vorrà la guardia costiera prendi la lancia con penne non preoccuparti papà sempre il pompiere starà per arrivare aiuto eccolo è arrivato urrà urrà per sam che cosa è successo charlie ciao sam ecco niente di serio ho solo urtato uno sfoglio e sono caduto in acqua sono rimasto impigliato in una nassa ma posso farcela oh no adesso mi tuffo a dare un'occhiata certo dovevi andare veloce quando è urtato contro lo scoglio non lo so io volevo solo fare l'eroe sì ecco questa è quella che si chiama un'azione da veri eroi urrà evviva fantastico bel lavoro guarda leone lo vedi il tuo eroe in tv io mi sento così in imbarazzo mai quanto me quando oggi ho scoperto di non avere più la tenda del bagno aspetti adesso viene la parte migliore guardate salutite norman man sono un eroe anch'io non 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 ma quello è la mia tenda del bagno non 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 è un incendio di natura elettrica quindi dobbiamo prima di tutto togliere la tensione da quella parte vado subito tranquilla l'incendio è stato spento ed è tutto sotto controllo c'erano troppe spine su una sola presa ecco dov'era il problema elvis ha ragione di lis devi sapere che è molto pericoloso sovraccaricare le prese bisognerebbe sempre evitare io ho provato a dirtelo che c'erano troppe luci ma tu hai continuato ad insistere e insistere ancora scusa mamma guardate che stava nuotando nella baia l'uomo in mare era proprio babbo natale evviva avrò anche perso tutte le decorazioni ma almeno ho ritrovato il mio stupendo babbo natale adesso me lo riprendo perchè voglio metterlo sul tetto sul tetto che cosa ti avevo detto norman price ma dai mamma norman price io credo sarebbe il caso che babbo natale ci aiutasse a ringraziare questi vigili per quello che hanno fatto per noi sorridi norman sei stato gentile a regalare il tuo gonfiabile per la caserma e per ringraziarti ho preparato queste tortine natalizie per te si norman sei stato molto gentile e così tutti in città potranno vedere babbo natale ecco non vorrei essere egoista oh ehi norman lasciani qualcuna per gli altri in effetti questo è il posto ideale per il tuo babbo natale e poi qui non potrà sicuramente causare altri incidenti una tortina natalizie signore grazie molte Elvis ascolta Elvis quegli attrezzi sono molto utili nel nostro lavoro ma non possono essere usati in qualunque emergenza ho capito dai norman tira al mio 3 1 2 3 e adesso? la marea sta cominciando a salire dobbiamo trovare il modo di liberarti il piede il prima possibile avanti tira norman tira io sto tirando ma non viene via ma non possiamo lasciarti qui che cosa possiamo fare adesso? chiamami il compiere qualcuno è rimasto incastrato tra gli scogli? in spiaggia Sam qualcuno è rimasto incastrato e la marea sta salendo prendi le pinze idrauliche Elvis non si sa mai si cos'è successo Charlie? è rimasto incastrato e io ho già provato di tutto per liberarlo no, non proprio tutto già hai ragione c'è ancora un'ultima cosa da tentare puoi cercare di sciogliere i lacci Norman? io credo di sì evviva grazie davvero Sam il pompiere avrei dovuto pensarci io ehi un momento ma dove è finito il mio secchio? ti ricordi dove l'avevi lasciato? oh l'ho perso coraggio ora andiamo prima che la marea ci trascini via aspettate qui c'è la mia scarpa tranquillo adesso ci penso io grazie Elvis hai salvato la mia scarpa è a questo che servono le pinze idrauliche a salvare le cose ve l'ho detto che questa pietra porta fortuna prima ha impedito che i pompieri tagliassero un incendio alla pescheria? shhh Elvis è uno sciocco sembra che ci sia un bambino al piano di sopra dove state andando voi due? a salvare un bambino ma a me non sembra un bambino infatti quello è l'agnellino di Wally che ho preso per fare uno scherzo è tutta colpa mia mi dispiace tanto tranquilla Sara ora ci pensiamo noi Penny prendi gli autorespiratori Elvis tu prepara l'idrante ora vado a salvare il bambino oh oh Sammy il pompiere il mio agnellino io lo sapevo che non era un bambino anch'io Mike anch'io ben Sara ma è comunque piccolo e vuole stare con Wally oh brrr ma che succede? speriamo solo che non ci sia stata qualche chiamata o mi avrebbero trovato a dormire in servizio oh un incendio a casa dei Flood no no perchè l'allarme scatta sempre nei momenti meno opportuni oh incendio a casa dei Flood Penny prendi il fuoristrada no 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 allontanatevi dalla casa adesso ci pensiamo noi Elvis tacca la corrente ok sen oh no che ha combinato stavolta Norman? guarda che io non centro niente è colpa mia sono uscito e ho lasciato il ferro collegato alla corrente conviene sempre stare molto attenti qualunque lavoro si faccia si anche uno spazzolone può essere molto pericoloso Elvis ha ragione oh leone nel vecchio pozzo oh oh sembra che leone sia caduto nel vecchio pozzo avverta il soccorso alpino signore dica a Tom di raggiungerci sul posto sono felice di vedere che il soccorso alpino si mobilita anche per un gatto ma certo Bronway pensavo che lo sapessi che noi non ci occupiamo soltanto delle persone eccoli la Penny ciao Tom adesso avremo bisogno del tuo verricello non c'è problema bene Tom noi ci siamo d'accordo Sam povero leone oh fantastico leone adesso dove vuoi andare poverino avrà bisogno di sgranchirsi un po' dopo aver passato tanto tempo la sotto sembra che si sia avverato il mio desiderio a leone ora non interessano più gli uccellini avevi ragione mamma forse è davvero un pozzo magico e forse anch'io diventerò una principessa da grande principessa Sara mi piace mi sta bene non risponde ora sarà meglio che chiami il pronto intervento oh no Bronwyn è nei guai chiamo subito il soccorso alpino tranquillo amico ehm voglio dire signore li troverò oh no Bronwyn è nei guai chiamo subito il soccorso alpino tranquillo amico ehm voglio dire signore tenaglia ma che cosa ci fai qui tenaglia dove corri non posso atterrare qui chiederò appoggio Sam ho la sensazione che siate nei guai qual è il problema? la mia gamba chiamo l'infermiera Flotta ma perché oggi non mi risponde nessuno al telefono? tutto bene? tenaglia mi ha portata qui tenaglia sei stato bravo lo sai? non è niente di serio ma adesso dovremo portarti in ospedale non è per fare una lastra Tom adesso è il momento di calare la barella eccola Sam Sam verrà su insieme a te noi ti raggiungeremo in ospedale ci siamo e allora che cos'è tutta questa tragedia? e poi la gamba non è neanche rotta no, però mi faceva tanto male Sam, sei stato fantastico ma se non fosse stato per la canzone di Elvis a quest'ora saremmo ancora sulla scogliera di Pontipandi rosso è il segnale se sei in pericolo se sei in pericolo se sei in pericolo rosso è il segnale un incendio a casa dei flochi oh no i fuochi d'artificio oh ops, un'altra volta c'è un incendio dai flochi io credo che sia a causa dei fuochi d'artificio Elvis, Sam, prendete il Jupiter io vi seguirò dalla sala controllo oh chissà dove sarà andato Leone e se si fosse nascosto proprio lì dentro non dirlo neanche per scherzo Sam ascolti forse Leone si è nascosto in laboratorio di nuovo ora ci penserò io niente niente per fortuna lì dentro non c'è ho controllato dappertutto ne sono sicuro oh per fortuna Sam meno male che sollievo per fortuna azzi picchia ma dove sarà finito voglio tornare a casa papà chissà se Leone ci aspetta lì dai, ti accompagno io ehi, ma non dobbiamo prima vedere il resto dei fuochi secondo me ne abbiamo visti anche abbastanza per oggi infatti la prossima volta lasceremo fare ai... ai professionisti era tanto che non spegnevamo un incendio così grosso hai ragione io avevo quasi dimenticato come si spengono ma che cosa è stato? l'hai sentito anche tu vero? guarda chi c'è qui è Leone sono così felice che stia bene volevi solo farti un giro sul camion dei pompieri non è vero Leone? che ci crediate o no l'amico si era nascosto nella scatola dei miei ocluscoli e non si può essere più al sicuro di così ma la montagna di Pontipandi è da quella parte lo so chissà dove ci sta portando non sono stato io ciao Radar che cosa ci fai qui? noi stiamo cercando Penny e tua madre Radar ha fiutato la maglietta di tua madre e ci ha portati dritti qui ma quella non è una maglietta è un vestitino ed è mio come hai fatto a dare a Radar il vestito sbagliato da annusare? oh mi dispiace io veramente non ricordavo che fosse il tuo questa è sicuramente della mamma aspettate adesso ricordo sì ecco Ellen stamattina ha detto che sarebbe andata a fare una bella passeggiata in collina coraggio Radar ritrovali oh 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 siamo qui oh mamma va tutto bene Penny credo di sì grazie ad Ellen Sono felice che ti sia ricordato di mandare qualcuno a cercarci Ma è evidente E ho suggerito io dove vi avrebbero trovate Alla fine È stata una fortuna che ci fosse un'infermiera con me Ellen mi ha fasciato la caviglia in un secondo Allora è così che esegue gli ordini Come? Che cosa ho fatto? Così? Era il mio piccolo segreto Ma come ho fatto a non accorgermene? Sembra proprio che tu gli abbia insegnato Allora non è rotto, ne sei sicura? Ma certo, è soltanto un graffio Oh, per fortuna è tornata la luce Non mi andava l'idea di lasciare Mike al buio in casa Sono perfettamente d'accordo Vedi, non è certamente da tutti saper mantenere la calma al buio Allora ci siamo, tranquillo Le salsicce sono quasi pronte Oh, ed è tornata anche Ellen Ciao mamma Oh, ma è stupendo Sono tornata appena in tempo E non ho dovuto fare niente L'idea era quella, giusto? Oh, i tovaglioli Li prendo io? No Oggi io voglio che tu non faccia proprio niente Te l'ho già detto Aiuto! Al fuoco! Aiuto! Ellen! Fai qualcosa! Chiama Sam il pompiere Oh, sembra che sia scoppiato un incendio a casa dei flott Oh no Sarà probabilmente collegato al blackout Sono tornato Non per molto Sam, ma andiamo Allora, c'è qualcuno rimasto all'interno? Nessuno, siamo tutti qui D'accordo Penny, gli autorespiratori, presto D'accordo Sam Stacca l'interruttore generale Staccato! Quando va via la luce Dovete sempre essere sicuri Che l'alimentazione delle piastre elettriche della cucina Sia staccata, avete capito? È stata colpa mia Mi raccomando Non lasciate mai nulla sulle piastre Per esempio i tovaglioli Già, come ho fatto io Mi dispiace tanto Forse avrei dovuto farmi aiutare Ma, vedi, stasera Ci tenevo davvero tanto A fare tutto io, Ellen Capito? Ecco, vuoi una salsiccia? One, two, three Non c'è un infermiera Come te Non c'è un infermiera Come te Non c'è davvero nessuna Come te Lei è la migliore, Ellen? Ragazzi, siete davvero fantastici Grazie Oh, santo cielo Charlie è in difficoltà con la sua barca Soccorso in mare La barca di Charlie è in difficoltà In barca acqua Sembra che ci siano anche dei bambini a porto Adesso andremo a fondo Aiuto, aiuto Abbandonare la nave Basta Deve cercare di calmarti, Norman La prima regola in mare È evitare il pan Dai, adesso respira a fondo Guardate, ecco Sam e Penny Sam, Penny Norman, respira a fondo, ho detto Scusi Si sono feriti? No, però la barca ha una palla Comunque è tutto a posto Finché continuo a pompare fuori acqua Bene Adesso venite, ragazzi Sara James No, Norman Tu resta a bordo e aiutaci Cosa? Ma non... Va bene Allora resto Grazie, Norman Bel lavoro, ragazzo Adesso ti prendiamo a traino Ma dovremo guidare insieme quel palenottero verso il mare aperto D'accordo? Si Norman e io ce la caveremo Vedrete Eh, viva! Si Hai trovato la mamma Guarda com'è felice, Sara Urrà! Io credo che ci stia ringraziando Ciao, balenottero In effetti è stata proprio una bella avventura, Dillis E allora chi ha vinto la gara, tesoro? Beh, io direi che l'abbiamo vinta tutti Era veramente grande così No, invece era grande così Ma per fortuna è scappata anche lei Che cosa? Che vuol dire per fortuna? E che avete tanto da ridere Io non capisco James, Sara e Norman sono scomparsi Sono stati visti l'ultima volta sulla spiaggia Averta il soccorso alpino, signore Tom li cercherà dall'alto E Penny e io faremo lo stesso dal mare Qui il soccorso alpino Vedo Sara su uno scoglio a 500 metri Dalle scogliere di North Bay Grazie, Tom Ora la vediamo anche noi Salta su, Sara Ecco fatto Dove sono Norman e James? Sono entrati nella grotta E poi non li ho più visti uscire L'ingresso della grotta è allagato, Sam Aiuto! 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 James, guarda! Lì c'è qualcosa che si muove nell'acqua Deve essere un mostro marino Ma Norman! Non ci sono mai stati Penny! Salve ragazzi Norman! Norman, ritorna qui È solo Penny! Io lo sapevo! Tranquilli, ormai siete al sicuro Vi porterò io fuori da qui Ma che ne sarà di me? Tornerò subito, Norman! Tieniti a me, James Ehi, è fredda l'acqua Non pensarci pochi secondi e sarai in salvo La marea sta iniziando ad abbassarsi A quanto sembra è stato il tuo scherzo a mettere tutti in pericolo Norman Price Eppure sai bene che ignorare le maree può essere rischioso Mi dispiace Sam E voi due avreste dovuto saperlo anche meglio di lui Ma mamma, Norman aveva detto di aver visto un dinosauro Beh, allora doveva essere un esemplare molto vecchio Perché ho trovato il suo bastone Vieni al porto, Sam Norman Price è caduto in acqua con un go-kart Vado subito, signore Aiuto! Sam! Sta calmo, Norman Ci siamo noi adesso, non preoccuparti Cerca di aggrapparti alla mia mano Bene, stavolta devo ammettere che hai veramente superato te stesso Hai quasi provocato un incidente stradale E hai perfino rischiato di annegare Ora tutto questo non sarebbe mai successo Se avessi aspettato che Mike ti avesse aiutato a costruire il tuo go-kart Mi dispiace Sam E chiedo scusa a tutti Non lo farò più, ve lo prometto Questa volta non basterà soltanto chiedere scusa, Norman Adesso dovrai anche cercare di rimediare ai danni Dopo che avrà finito potrebbe aiutarmi a costruire un vero go-kart Oh, ma certo, Norman Molto volentieri Passami la chiave Forte! Non appena avremo riparato i freni Riparato il paraurti Lavato il furgone E... Credo che anche qualcun altro stia aspettando il tuo aiuto Un incendio sopra il supermercato di Dillis? Attenzione! Un incendio sopra il supermercato Cat Price Voglio una mobilitazione generale Ah, Sam! Forse dovresti aiutarmi di nuovo Adesso si sente uno strano rumore di sirene Prosto! Ora dovresti lasciare l'edificio nel caso l'incendio si diffondesse L'incendio? Qual'incendio? Norman! Allontanati da qui! Alla svelta! Non posso, Sam! Sono rimasto incollato alla porta! Ho capito! Allora vediamo Penny! Va a prendere un cacciavite Dobbiamo smontare il pomello Vado subito, Sam! Sam! Ma queste viti sono arrugginite Non vengono via! Allora stacca tutta la porta Norman Price Rimetti a posto quella porta Scusa, mamma Ma non posso Ci sono rimasto incollato Non preoccuparti Ci penso io Mi servirà soltanto un po' di acetone per lo smalto Io non posso credere che tu sia rimasto incollato al pomello Comunque c'era un avvertimento sulla colla Ma tu come al solito non segui le istruzioni Le istruzioni servono ad aiutarci, Norman E tutti possiamo aver bisogno di aiuto Mi dispiace davvero tanto Oh, dispiace anche a me Non credevo che quelle cuffiette fossero così pericolose Oh, è un vero peccato per questo modellino Li montavo anch'io quando ero piccolo Quando avevo la tua età, lo sai, Norman? Sul serio? Ehm, Mike Se ne comprassi un altro Lei mi aiuterebbe a montarlo Da solo ho avuto qualche piccola difficoltà Oh, ma certo E molto volentieri Bene A questo punto è ora di tornare in caserma, Elvis Oh, no Oh, vado sull'ottovolante Mi piace tanto anche andare al ristorante Oh, è di nuovo il supermercato di Dillis Ma non è possibile Si tratta sicuramente di un altro falso allarme, Sam Adesso Norman Price sta davvero esagerando Oh, no Sam il pompiere stavolta non verrà Penserà che voglia prenderlo in giro e finirà mangiato dal lupo proprio come il bambino di quella storia E anche io Mi dispiace tanto, mamma È soltanto colpa mia L'ho fatto scattare io prima E l'ho fatto solo per riavere il mio pallone Oh, no Norman Oh, è Sam È arrivato Sam Attento O cadiamo tutti e due Norman Price Dovresti vergognarti di... Che cosa ci fate lassù? C'è un lupo qui dentro Guarda, è dietro il bancone Sono serio Non è uno scherzo stavolta Ma quello non è un lupo È una volpe E credo sia anche ferita Oh, poverina Prendi la pinza, Elvis Oh, Sam Avevo così paura Credevo che non sarebbe più venuto Noi rispondiamo sempre alle chiamate d'emergenza Anche quando le riteniamo falsi allarmi Non preoccuparti Io non voglio farti del male Ecco fatto Adesso fascerò per bene la ferita E si rimetterà in un paio di giorni Sam Che c'è Norman? Ecco, volevo solo chiederle scusa Prima sono stato io a far scattare l'allarme Sì, lo so Sei stato bravo ad ammetterlo Sta' attento Norman Io credo che da oggi in poi non griderà mai più al lupo Ma è un vero disastro Alla scogliera L'autobus di Trevor sta per precipitare Non c'è tempo da perdere, Sam Qui i vigili del fuoco di Pontipandi a soccorso alpino Abbiamo bisogno di te, Tom In effetti è in una brutta posizione Ma per fortuna quel costone sembra abbastanza stabile Ricevuto Stiamo arrivando Oh, arriva Sam il bufiere Trevor, c'è ancora qualcuno a bordo? No Sam, siamo tutti qui È soltanto il mio vecchio autobus che è nei guai E anche Norman Coraggio, ora sbrighiamoci Elvis, il cavo d'acciaio Allontanatevi voi Io inizio a tirare Sam, fa presto La roccia inizia a cedere Ricevuto, Tom Grazie, Sam Grazie Grazie Mi dispiace di essere scappato, mamma Ma adesso mi sento davvero molto meglio Grazie per aver dato l'allarme Ma in ogni caso non avresti mai dovuto lasciare libera Wally E adesso che cosa gli succederà, Sam? Io avrei un'idea per dargli una bella lezione Ehi, guarda Wally Quella sei tu, è la tua foto Così gli automobilisti sapranno che potrebbero incontrare delle pecore sulla strada Bene E questo dovrebbe evitare qualunque genere di incidente Un incendio alla trattoria del pesce intero ha fatto in fretta Stavolta non è un vostro allarme, Sam Ha chiamato Charlie in persona Oh, chissà dove sarà l'incendio Penny ed Elvis Voi due prendete l'idrante Io controllo che non sia rimasto nessuno dentro Caccardo, Sam Mamma! Mamma! Norman, stai indietro Sì, ma la mia mamma è lì dentro No, tranquillo, lei è laggiù, Norman Norman Oh, mamma, ho avuto tanta paura Credevo che tu fossi in pericolo Oh, Norman Ma allora mi vuoi bene veramente? Ma sì, certo Tu sei la mia mamma Mi dispiace tanto per il portacandela, mamma Non credevo che potesse essere pericoloso Comunque adesso ti ho fatto un regalo molto più sicuro Un portacarte Mi c'è voluto tanto tempo per decorarlo Allora ti piace? Oh, Norman tesoro Questo sì che è un regalo veramente stupendo E tu sei il mio angioletto Oh, oh, mamma Oh, mamma Oh, mamma Se l'allarme inizia a suonare Sam sa sempre cosa fare Se nei tuoi ti caccerai Sempre, Sam, tu troverai Su forza chiama Sam Grazie a tutti